Grazie mille dottoressa Roggi, io ringrazio tutti voi, ovviamente vi do il buon pomeriggio e in questi 12 minuti vorrei appunto parlare dei primi risultati della mia ricerca di dottorato, è una ricerca comunque umanistica, quindi la prima parte prevede comunque una review della letteratura e una proposta di argomenti da un punto di vista speculativo. Innanzitutto, aspettate, gli obiettivi che mi sono posto all'inizio del primo anno di dottorato è appunto valutare da una prospettiva etica di ontologica dei diritti, cioè una prospettiva su cui si basano anche le nostre costituzioni fondamentalmente, quindi non una prospettiva soltanto conseguenzialista che si occupa soltanto delle conseguenze delle nostre azioni senza tenere conto dell'individualità delle persone. Bene, da questa prospettiva si sono valutate l'esistenza appunto di vincoli morali verso le nuove generazioni alla luce del continuo progresso delle tecnologie produttive. In sostanza, si vuole indegare quindi il rapporto tra la responsabilità genitoriale e l'autonomia procreativa nel contesto della pratica di genome editing. Probabilmente molti di voi non sapranno che cos'è la pratica di genome editing, è comunque una tecnica che permette di modificare il genoma di uno o più cellule animali e umane e questa cellula, scusate, questa tecnica è più avanzata e promettente si può ritrovare nel sistema CRISPR-Cas e questo sistema è stato già utilizzato su la linea germinale umana quindi modificando embrioni ricavati in vitro appunto in Cina nello sopembre. La tecnica ha suscitato ovviamente delle controverse e quindi alla luce di questo è opportuno darne una valutazione etica che ovviamente non è assolutamente una questione dell'ultimo ora anzi la manipolazione genetica è sempre stata al centro del dibattito etico sin da quando la bioetica fondamentalmente è nata però uno dei più importanti contributi che possiamo assaggiare negli ultimi anni è appunto il contributo del Nafil Consil del luglio del 2018 per il quale appunto si è data una revisione della letteratura e si sono date appunto due previsioni o perdonatemi, due condizioni grazie alle quali appunto il genometri è possibile sarebbe eticamente appropriato quindi nell'interesse del futuro individuo o finché appunto questa modificazione non produca cioè divisioni sociali, inequità o discriminazione sociale. la mia proposta, cioè il mio primo anno di dottorato ha appunto assunto questi due punti e ho voluto andare più in là e si è indagata all'esistenza di un obbligo mulare di ricorrere alla pratica in questione quindi mi sono chiesto come cambia la responsabilità genitoriale alla luce della possibilità del genomediting sì perché questi due punti intendono il genomediting il nothing constant intendono il genomediting soltanto come qualcosa che estenda l'autonia l'autonomia procreativa però per quanto mi riguarda secondo me ci sono delle condizioni degli argomenti che invece la conducano verso una riduzione del principio di autonomia procreativa verso un allargamento della responsabilità genitoriale alla luce della teoria etica che si è sottalizzata quindi si è indagato e si vogliono indagare nei prossimi due anni l'esistenza di ragioni morali al fine di utilizzare tale pratica per garantire alcune caratteristiche ai futuri individui per ovviamente rendere l'accesso alle equi opportunità più facilitato ai futuri individui questo addirittura potrebbe addirittura quindi compromettere come ho detto prima il principio di autonomia procreativa e mettere in discussione il presunto diritto a procreare tramite rapporto sessuale per fare ciò si è analizzata la letteratura in questo campo però una letteratura che si rifà non tanto alla modificazione genetica ma alla già possibile e disponibile selezione genetica si è quindi valutato il principio di beneficenza procreativa di Savulescu il quale sostiene che esisterebbero ragioni morali per selezionare il miglior figlio possibile attraverso la procreazione medicalmente assistita quindi questo principio è molto più inclusivo di quanto non si voglia proporre oggi infatti non solo la modificazione genetica è inclusa ma anche la selezione genetica le critiche più rilevanti a questo approccio sono ovviamente le due che appunto vedete dalla slide cioè l'impossibilità di definire che cosa significhi miglior bambino e di fatto questo principio potrebbe essere anche troppo esigente e imporrebbe una serie di costi ai genitori una serie di costi dai genitori che forse non sono giustificati per il fatto che questo principio si basa su una fallaccia secondo Rebecca Bennett una fallaccia perché selezionare il bambino migliore non è da intendersi quanto una ragione morale ma tanto come una preferenza legittima o meno non entriamo nella discussione infatti secondo Bennett Savulesco ha su una prospettiva di danno impersonale la selezione genetica infatti non favorisce non danneggia nessun individuo perché ogni imbreone è selezionato per caratteristiche che già possiede quindi Savulesco sostiene che seppur non ci sia nessun individuo danneggiato dall'azione X l'atto sarebbe comunque sbagliato l'azione X renderebbe il mondo peggiore di quanto avrebbe potuto essere evitando di perpetrare lezione X tuttavia per Bennett la morale non si base nemmeno alla nostra di fatto costituzione o comunque il mainstream morale su cui noi basiamo di fatto le nostre speculazioni in questo contesto oggi non può basarsi sulla nozione di danno impersonale ma soltanto su un concetto di danno personale l'intuizione di non selezionare un figlio con disabilità deve perciò intendersi solamente come una preferenza del genitore e non come un'obbligazione morale solo stesso perché l'ombrione come dicevo prima è già stato selezionato per qualcosa che già possiede e quindi non viene fatto né un danno né un beneficio selezionando questo ombrione o meno o questi insiemi di ombrione ovviamente torniamo però adesso alla pratica di genome editing la pratica di genome editing si differenzia dalla selezione genetica perché innanzitutto come possiamo notare nel genome editing io manipolo un embrione modifico un embrione cioè dopo la selezione io aggiungo o tolgo un carattere monogenetico quindi modifico il DNA pertanto sarebbe intuitivamente sensato sostenere una certa continuità tra l'embrione che io modifico e il futuro individuo inoltre l'impossibilità di definire il benessere e quindi il miglior figlio possibile non significa ritorniamo alla prima critica che veniva mossa a questo all'approccio di l'esco significa che si può trovare un meno meno demanding cioè un minimo genetico decente che viene proposto da Buchanan che incontri l'incontro perdonatemi di tutte le teorie morali presenti nell'arena pubblica ad esempio intuitivamente possiamo sostenere che le gravi liberità privano alcune persone di un'equa eguaglianza di opportunità di far valere i propri interessi e a realizzare i propri progetti di vita alla stregua di alcune condizioni socio-economiche qui ovviamente stiamo parlando non di una vita degna o non degna di essere vissuta ma stiamo parlando di un accesso più o meno facilitato ad equa opportunità tanto quanto l'istruzione ad esempio è quindi possibile ritenere che l'intervento genetico ove tecnicamente possibile e economicamente disponibile sia chiaro sia necessario per garantire attraverso genetico non si sta selezionando un embrione ma lo si modifica al fine di alterarne le caratteristiche genetiche in questo senso come dicevo appunto prima non stiamo più parlando di un danno potremmo non parlare più di un danno impersonale ma di un danno che invece è personale cioè intacca quella identità numerica che appunto è conseguente è la stessa tra l'embreone manipolato e il futuro individuo perciò il futuro individuo derivato avrebbe il diritto ad esprimere delle lamentele nei confronti dei condotti Davide dimmi due minuti ho due minuti ok ok va benissimo va benissimo grazie mille la modificazione attiva dell'embreone a sua omissione comporta un'espansione della responsabilità riguardo ai futuri individui quindi arriviamo alle nostre conclusioni preliminari quindi sostenere il diritto e l'accesso ad ecco opportunità conduce alla seguente conseguenza la possibilità di ricorrere alla pratica di genomedicine limita la libertà procreativa dei genitori fino a compromettere il diritto a una procreazione naturale cioè giustificato dal diritto del futuro individuo ad avere un minimo genetico docente cioè non stiamo giustificando una nuova genetica ovviamente che si basa invece sul migliorare la fitness genetica umana o sulla massimizzazione del benessere aggregato stiamo parlando in una questione di diritto una questione di diritto che è ovviamente personale avendo la possibilità di garantire un determinato trattamento di genomedicine che garantisca appunto l'accesso ad ecco opportunità al futuro individuo potrebbe essere quindi moralmente discutibile non sottoporvisi allo stesso modo quindi qui creiamo un'analogia che è provocatoria intuitivamente siamo portati a sostenere che è moralmente doveroso curare un neonato affetto da una certa malattia dove questa certa malattia comprometterebbe l'accesso a ecco opportunità del neonato stesso nella sua nel corso della sua vita ovviamente ci sono delle conseguenze su questo approccio ovviamente non sto sostenendo questo approccio to cure in questo momento ma sono delle conclusioni preliminari che mi danno la possibilità di indagare nei prossimi mesi e nei prossimi appunto due anni tre macro aree di conseguenze di questa introduzione di questo vincolo di questo vincolo appunto questo allargamento della responsabilità genitoriale questa riduzione del principio di autonomia procreativa ho individuato quindi tre tre conseguenze la prima è un sovraccarico morale cioè la teoria morale in esame che abbiamo appunto assunto all'inizio potrebbe essere troppo demanding cioè arriviamo ad avere a costruire a notare un cortocircuito tra la teoria morale e la la vivibilità l'applicabilità di questa teoria e quindi urge una riflessione teorica in questa una riflessione teorica sul conto di responsabilità la seconda invece prospettiva assume invece dei dati empirici ovviamente si vorrebbero assaggiare delle conseguenze psicosociali che questa che questa introduzione di questo vincolo potrebbe comportare e quindi per siccome ovviamente non abbiamo dei dati per quanto riguarda il genome editing una prospettiva interessante sarebbe quella di valutare degli studi empirici già fatti e io in questo momento sono nel centro interfacoltà di biomedica di Lovagno dove su questa cosa qua sono molto molto ferrati e quindi si vorrebbe analizzare il concetto di stigma e discriminazione in due classi di screening l'expanded carrier screening e il cardio screening e infine ovviamente una riflessione sul concetto di disabilità alla luce della difficoltà alla luce della difficoltà della definizione di minimo genetico e quindi si andranno ad analizzare i concetti di disabilità nel contesto medico e nel contesto sociale ecco queste erano le mie previsioni di lavoro dei prossimi mesi e io con questa vi ringrazio e ho finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti